Problemi sui pagamenti IMS, nuovi fondi per le pensioni e una riforma in arrivo per disabilità e invalidità. Ciao a tutti, benvenuti su Speedy News. Oggi vi aggiorniamo sulle novità più recenti, dagli errori di IMS sui pagamenti fino ai nuovi fondi per pensioni e invalidità. Restate con noi fino alla fine per scoprire come queste modifiche potrebbero impattare i vostri diritti. E, come sempre, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna notizia importante. Partiamo subito con l'aggiornamento su assegno di inclusione e supporto formazione lavoro. INPS sta inviando messaggi e notifiche ai percettori, ma molti hanno ricevuto SMS di errore. INPS ha confermato che alcuni di questi messaggi sono stati inviati per sbaglio e invita a ignorarli. Intanto, i pagamenti continuano e si prevede che saranno completati nei prossimi giorni. Anche l'assegno unico di fine mese è in pagamento e le date sono previste fino al 28 ottobre. Per quanto riguarda le pensioni, il pagamento di novembre partirà il 2 del mese per chi ritira imposta e il 4 novembre per chi utilizza la banca. Tuttavia, la protesta cresce tra i sindacati per una rivalutazione delle pensioni che giudicano insufficiente, con un aumento di soli 3 euro lordi. E ora, passiamo alla novità più importante. Sta per essere inserito nella legge di bilancio un articolo che prevede nuovi fondi e assunzioni di personale per migliorare le tempistiche di gestione delle pratiche di invalidità. Questo rientra nella riforma del Progetto di vita per la disabilità e l'inclusione, una grande trasformazione prevista per gennaio 2025. L'obiettivo è rendere più efficiente il sistema, con nuovi fondi da 16 milioni di euro dedicati. Queste sono le principali novità. Con Speedy News rimani sempre informato sui diritti economici e sulle novità INPS. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo importante aggiornamento!